Franco, allora hai detto che vuoi stare a noi, ma il bastitore quattro dices che è deciso finalmente da nessun anno d'inverno? Perché non vuoi stare a vedere gli anghi riscaldamento scede a su, a parca al timo che sta a cammo? Lì c'è l'uomo, c'è l'altro da noi, se cambia il freddo. Non ti diceva che non c'è il monaco sostenibile, no? Beh, per la mano, c'è sbagliatina delicata. Opo, come se cambia il freddo? E non c'è l'uomo, ma che dici l'uomo? L'uomo, l'uomo, viene il tuo ecco il ciasco, ma l'uomo l'uomo, 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 il salotto e il cambra. Oddio, non passò, cosa è stata giù che ne scrivisce il febbraio? Era tanto ciasco, ma l'uomo è così dire che il mani è curta la parciglia. Onestano? Stacce loro, Spirocchi, da 300 euro il gasolio più manca adesso. Sì, no, no. Occio! Si, a me non è mia, perché a me non mi ha ragione. Perché che? A me la cazola! Non è niente anche un paio di cambiare intorno. Ho fatto il pieno del gasolio, l'anno passato in ottobre. Sì, a me la cisterna. E ne manco il meno della cisterna. E... Sai che io, me la ho con la Gabriella per spargare niente. E sei po' che quelli con crema la fattura per quello? No, ma da voi vuole che si spiega l'ins proprio per l'insa Roberto, ma noi che ne sa più che porta su ogni viaggio che vuole qua. E con chi io vado da l'ora e non ha mille prudenza per me che vuole tornare a portarmi alla stazione ogni giorno. Alga, a mangiare diverso, mi fa... Ah, tu saps quina coga che mira a mano... ...